Infatti non foste a vivere come bruti, ma per seguire virtute e canoscenza. Soltanto un occidente unito e quindi forte, anche nuclearmente forte, con gli arsenali nucleari della Federazione Russa, degli Stati Uniti, dell'Inghilterra, della Francia, potrebbe costituire un deterrente che potrebbe evitare una immigrazione di massa da parte degli africani nei confronti dell'Europa, africani che sono già un miliardo e mezzo e che nei prossimi vent'anni si pensa diventeranno addirittura due miliardi e mezzo. Chi è che vende le camicie di forza? Invece che dare tutta questa carta, diamo la chiavetta. Hai spiegato dove si deve infilare? Sì. Siete nobel laureati on the economist, on the economist, on the economics, I should say. Ecco, la musica è finita, gli amici se ne vanno, che è inutile serrata. Fermi tutti! La musica è finita, 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 la musica è Grazie a tutti 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 Grazie a tutti